ed eccoci tornati online sempre su onde quadri in questa full invention nella biennale della tecnologia di cui noi proviamo a dare un piccolo assaggio continuiamo con le interviste di questa domenica mattina e quindi ringraziamo l'ospite alessandra lancillotti curatrice delle delle proiezioni della biennale buongiorno grazie per l'invito grazie a te per essere per essere qui abbiamo detto tante volte che la biennale diciamo un ricchissima di eventi ricchissima di iniziative ma non solo lezioni lexio magistralis anche proiezioni in qualche modo non soltanto diciamo il parlato diventa momento di di confronto ma anche l'aspetto audiovisivo in questo senso quale è stato il suo lavoro sì in effetti ci si aspetta di trovare al politecnico sempre conferenze o incontri o mostre che sono delle attività consolidate nella storia del politecnico e quest'anno la sala proiezioni che ha il nome di sala lumiere è stato un esperimento non c'era mai stato nelle vecchie negli vecchi eventi di biennale è stato un esperimento molto bello abbiamo programmato proiezioni cinematografiche a partire dal mattino quindi ci incontriamo alle 9 30 qui in corso duca degli abruzzi e la programmazione va avanti fino al pomeriggio e abbiamo dato spazio a molti centri di ricerca ad archivi e istituzioni che lavorano sul territorio italiano ma che si collegano con temi legati alla tecnologia al panorama internazionale diciamo che in parte un po il politecnico l'importanza agli strumenti audiovisivi l'ha data addirittura dedicandoci un corso di studi ingegneria proprio del cinema e dei mezzi di comunicazione in questo senso secondo lei qual è anche la forza e l'importanza anche di momenti come come vedere video e proiezioni e in un momento di confronto di ascolto e di riflessione come quello della biennale beh il cinema è uno strumento che riesce ad arrivare a un pubblico molto vasto e quindi apre apre a un pubblico che non è solo quello degli studenti e dei ricercatori quindi rende fruibili dei contenuti che non sono magari sempre accessibili attraverso le fonti tradizionali che la ricerca usa e quindi uno strumento che che apre l'università ad altri mondi però secondo me io sono ricercatrice cioè mi occupo di ricerca sono una dottoranda e poi mi occupo di questo archivio audiovisivo che c'è al dipartimento di architettura e design che un archivio finico d'architettura e anche per noi che facciamo ricerca gli audiovisivi sono importantissimi non sono una fonte tradizionale quindi non sono la fonte più autorevole ad esempio per gli architetti per per gli urbanisti però sono entrati nel panorama del nostro territorio di dati assolutamente diciamo che dall'essere soltanto i libri nelle biblioteche la prima unica e sacra fonte di informazione di anche il materiale audiovisivo e inizia sempre di più ad acquisire una sua una sua importanza in questo senso secondo me molto bello quello quello che stava dicendo sul sul fatto dell'inclusività in questo senso quando anche uno degli scopi della della biennale aprire il politecnico a mondi diversi che solitamente non transitano in queste aule in questi in questi in questi corridoi e alcune volte forse i nomi altisonanti possono spavere le lezioni di nomi altisonanti possono un po spaventare essere un po anche diciamo le difficoltà linguistiche un ostacolo in questo senso la forza e l'impatto delle immagini è potente in questo senso nell'essere più forse alcune volte più universale sì il cinema un po l'arte che contiene tutte le arti contiene tantissimi linguaggi e un film a molti tipi di narrazione stratificati e quindi può essere può essere recepito da da persone che hanno competenze diverse e può essere recepito anche in forma parziale può essere anche un'esperienza puramente sensoriale poi nel momento in cui i film sono più di da scali ci possono insegnare qualcosa e anche il linguaggio che usano magari persone specializzate nei film documentari ad esempio comunque cambia rispetto all'audience che sia quindi sia un cinema un prodotto democratico e non può essere non può essere diversa è molto bella questa 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 definizione penso anch'io poi nel senso l'abbiamo ormai un po i termini della pedagogia sono entrati un po nel nostro lessico e le immagini sicuramente anche nel nel facilitare la memorizzazione di determinati concetti sono fondamentali in questo senso il cinema le proiezioni sono sono fondamentali allora noi dopo questa piccola introduzione facciamo un piccolo break e torniamo tra pochissimo con alessandra ed eccoci tornati siamo qui è sempre onde quadre con la nostra ospita alessandra lancillotto curatrice delle delle proiezioni di questa di questa biennale tu vieni da una formazione come come architetta giusto esatto e com'è che poi sei approdata al alla regia e al mondo audiovisivo sono due percorsi che sono stati sempre paralleli mentre studiavo architettura studiavo anche in modo indipendente cinema e ho cominciato a lavorare per alcune produzioni e poi in un momento fortunato della mia vita mi sono trovata a unire queste due passioni lavorando per un archivio cinematografico e poi sono arrivata qui al politecnico dove ho seguito questo progetto per mettere in piedi l'architeca l'archivio cinematografico multimediale di architettura che nasce con del materiale raccolto a partire dagli anni 80 dal laboratorio di tecnologie della rappresentazione sempre ad architettura che adesso una realtà archivistica di valorizzazione sempre bello anche alcune volte forse il politecnico ne fa così tante che è difficile saperne saperle tutte e questi momenti in qualche modo aiutano anche a scoprire il politecnico anche a chi lo vive quotidianamente un po' questo momento delle proiezioni per voi è stato anche questo un momento per aprire quel lavoro di ricerca di archivio che è stato fatto negli anni per poi fare quello che è più utile cioè renderlo pubblico e renderlo fruibile sì il materiale archivistico è un po' solitario e anche la vita degli architisti degli archivisti o dei ricercatori in archivio è una vita solitaria diciamo l'immaginario quando senti un archivio pensi un posto un po' polveroso con le ragnatele che nessuno va neanche a pulire ogni tanto è anche quello però l'archivio l'archivio vive l'archivio tra l'altro è il futuro io come regista ad esempio filmo sempre meno perché mi sono stancata di questa bulimia del digitale in cui puoi girare tantissimo e recupero molte immagini del passato che possono essere risemantizzate cioè non hanno solo un valore in sedi da scali che può essere utilizzato e nella ricerca può essere utilizzato moltissimo il materiale d'archivio e può uscire dall'archivio e diventare patrimonio collettivo con con proiezioni che uniscono un po' persone diverse pubblici di tipo diverso assolutamente e questa questa quattro giorni è stata appunto anche per voi che vi siete occupati delle proiezioni è ricchissima di di momenti con un programma serratissimo perché avete avuto quasi una proiezione quasi continua in questi in questi giorni ora e me siamo arrivati alla fine però ancora ci sono due eventi tra 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 la tarda mattinata e oggi pomeriggio giusto sì stiamo stiamo chiudendo le proiezioni dedicate alle conversazioni italia giappone che il japan hub e claudia cassatella che una docente di urbanistica ci hanno proposto e erano è stata una serie di sette puntate adesso sono in corso la proiezione delle ultime due puntate di questi rapporti fra ricercatori italiani e giapponesi su alcuni temi legati alla biennale di tecnologia quindi hanno realizzato alcuni documentari insieme che sono stati hanno hanno occupato la mattina di venerdì sabato e anche oggi e al pomeriggio abbiamo gli ultimi due eventi cominciamo alle 15 con lo spazio curato da architeca l'archivio per cui io ho lavorato e in cui ancora faccio base e i nostri ospiti saranno paolo piumatti il professore che è responsabile scientifico dell'archivio insieme ad alfredo ronchetta che ha fondato questo archivio sentivo parlare offline insieme ad alessio proprio di questo nome sì alfredo ronchetta all'inizio anni 80 era un ricercatore e ha fondato un laboratorio di produzione audiovisiva capostipite diciamo di tutto questo sì e poi tra l'altro molte persone che oggi lavorano un po al politecnico con gli audiovisivi ma anche nel cinema nel cinema insomma fuori da questo mondo accademico si sono formate lì è stato è stato proprio una fucina di creazione di di professionalità legate al cinema qui in piemonte importante e da questa struttura di produzione è nato è nato un archivio che si è stratificato nel corso degli anni e che adesso ha una ha una vita propria è aperto ed è disponibile per tutti invece l'ultimo evento è alle 16 quindi subito dopo l'uomo la macchina e il cinema di impresa sì ci saranno con noi elena testa che dirige questo archivio virtuosissimo e del cinema di impresa di ivrea che è uno dei più importanti sul tema nel panorama nel panorama almeno europeo e che dialogherà insieme al professor giovanni ferrero su come sul rapporto fra uomo e macchina nel nell'ambito industriale quindi qual è stato nel corso del novecento il rapporto che che c'è stato fra queste due entità uomo macchina assolutamente assolutamente diciamo che un po' nella città che ospita il museo del cinema questa importanza era quasi era quasi dovuta a un'arte del genere anche nel nell'interrogarsi sia sul sul suo impatto sulla società e sia su quelle che sono le implicazioni di una tecnologia del genere nelle nostre nelle nostre vite sì in effetti in effetti sì torino poi è sempre più città del cinema oltre alle cose nuove che nascono e le produzioni che si consolidano il festival del cinema che inizierà tra poco che cresce insomma il cinema si si rende sempre più uno strumento uno strumento di analisi uno strumento di incontro di approfondimento per tutti e le questioni tecnologiche portano avanti anche l'evoluzione del cinema assolutamente è stato un piacere averti qui e scoprire anche diciamo questi aspetti forse alcune volte per noi ingegneri che stiamo più di qua che che al che al valentino non scontati del del politecnico e ti ringraziamo ancora per essere stati qui noi ci lasciamo con una piccola clip e ritorniamo tra pochissime grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi